ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul nostro canale think travel group oggi ci troviamo a chantornet località sopra tournion dove arriva l'ovetto in un vero punto di partenza per le piste da sci l'obiettivo di oggi è andare sull'anticima del monte meabè seguiteci il giro che proponiamo oggi un giro ad anello arrivati a questo video prendiamo sentiero 9 a poi ritorneremo una volta che abbiamo raggiunto l'anticima dal sentiero numero 8 per tornare a valle vediamo com'è ciao a tutti 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 eccoci arrivati alla fine del sentiero siamo in cima al colle sud in realtà il colle nord è lì ma non ci si arriva perché è troppo friabile sentiero troppo pericoloso bellissima gita spero che vi sia piaciuta lasciate un like per supportare il canale iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo alla prossima avventura ciao ciao a tutti